Come si fa a scegliere l'obiettivo giusto per realizzare le nostre fotografie? Come fanno i professionisti a sapere già che un determinato tipo di obiettivo è quello giusto per le loro esigenze? Nel corso di questo video vi spiego come imparare a capire se un'ottica fa per voi oppure no. Questa è una risposta a un commento di uno di voi che ho reputato particolarmente interessante. Quindi andremo a vedere dalle caratteristiche note di un'ottica, quindi i dati messi a disposizione dal produttore, come facciamo a capire se quell'obiettivo è giusto o no per quello che vogliamo fotografare o filmare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Ovviamente le lenti per me non hanno più tanti segreti. Io quando vedo un'ottica lo capisco subito che tipo di risultato mi restituisce e se va bene o no per quello che serve a me. Tant'è che quando mi nasce una nuova esigenza, devo fare quello specifico tipo di fotografia o di ripresa video, io so già nella mia testa che obiettivo devo andare a prendere. Quindi vado sul sito del produttore di riferimento, nel mio caso io uso Canon, e vado a vedere che obiettivi mi mette a disposizione nel range che mi occorre. Il più delle volte c'è più di un'ottica che mi viene messa a disposizione, perché ce ne sarà magari una di fascia bassa, una di fascia media e una di fascia altissima. Quindi devo andare a capire quale scegliere e in base a che cosa fare le mie scelte. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, perché ci saranno altri capitoli dedicati a cose di sicuro interesse sia per neofiti, sia per semiprofessionisti o anche professionisti, per cui il bottone è subito qui sotto, andate subito a spolliciare. Cominciamo subito e io vi proporrei la lettura dei dati di un'ottica a questo punto. Questo qui è il 24-105 RF, quindi parliamo di Canon, parliamo di mirrorless. Ora io vado a leggervi questo obiettivo perché ce l'ho qui a disposizione. Una cosa analoga si può andare a fare sugli obiettivi di tutte le case. Le sigle saranno diverse, ma più o meno le informazioni sono disposte nello stesso modo. Andiamo per ordine. Io vado a leggere quello che c'è scritto nell'interno dell'anello. Quindi qui sopra sono segnate tutte le informazioni. Talvolta sono segnate sul barilotto, talvolta sono segnate sull'interno, talvolta entrambi. In questo caso io vado a leggere quello che c'è scritto qui dentro. Quindi cominciamo. Canon lens, ovviamente questa è un'ottica di casa Canon, quindi c'è anche un identificativo del brand di riferimento. Ovviamente se abbiamo Nikon non andiamo a prendere un'ottica di questo tipo e viceversa, ma questa è la roba più facile del mondo, ci eravamo già arrivati tutti da soli. RF. RF, di solito la prima sigla che troviamo su un obiettivo identifica il tipo di baionetta. Quindi ci serve a capire, e qui dobbiamo fare uno sforzo in più però, perché la macchina di riferimento poi magari non si chiama RF. In questo caso, stando su Canon, noi qui abbiamo RF e la macchina di riferimento si chiama R. Quindi tutte le macchine che hanno dentro la R, quindi Canon EOS R1, Canon EOS R7, Canon EOS R, Canon EOS RP, sono compatibili con quest'ottica. RF è compatibile con le macchine che hanno la baionetta R. Questo di solito vale per tutti i brand, con delle differenze, nel senso che le sigle possono variare, però insomma le prime cifre che troviamo di solito sono identificative del tipo di baionetta. Possono essere prima o dopo il numero, a seconda del brand, perché anche lì mettersi d'accordo mai, però insomma c'è sempre un identificativo del tipo di baionetta, perché altrimenti compreremmo qualcosa che poi non va bene con la nostra fotocamera. Certo, dobbiamo sapere alla nostra fotocamera che identificativo ha per la baionetta giusta. Quindi dobbiamo fare quello sforzo lì, al limite chiediamo prima di acquistare. La seconda cosa che troviamo è un numerino. In questo caso abbiamo 24 trattino 105. Possiamo avere anche un numero solo. Potremmo avere 35 mm e basta. In quel caso sarebbe un'ottica fissa, quindi un'ottica che non consente di zoomare avanti e indietro. Nel caso di un'ottica che non consente di zoomare è un'ottica cosiddetta prime o ottica fissa, e quindi avremo un numerino solo, una sola lunghezza focale in millimetri. I millimetri facevano riferimento una volta alla distanza tra il frontale dell'obiettivo e il sensore. Adesso questa distanza è un po' falsata perché le ottiche vengono costruite in maniera diversa, sono più compatte e quindi questa distanza non viene più sempre rispettata. Adesso una lunghezza focale espressa in millimetri fa riferimento semplicemente all'angolo di campo che otteniamo con quella data ottica. Più il numero è piccolo, più l'angolo di campo sarà grande. Più il numero è grande, più l'angolo di campo sarà piccolo. Questo cosa significa? 24, 105. Se io scatto a 24 mm avrò un grandangolo medio. Se io vado a scattare a 35 mm avrò un semi grandangolo ma che va verso un'ottica standard. Vado a 50 mm ho l'ottica standard, quella che vedete in questo momento. Quindi non è grandangolare ma non è nemmeno super sparata sulla faccia. Se vado a 70-85 mm ottengo un teleobiettivo da ritratto. Vado a 105 mm ottengo un teleobiettivo da ritratto, prodotto o altri tipi di fotografia. Diciamo che ho ristretto l'angolo di campo e quindi mentre col grandangolo si fanno foto da vicino o foto di cose molto grandi col teleobiettivo, man mano che zoom sul teleobiettivo vado a fare fotografie di cose più piccole o di cose più lontane. La grossa differenza è questa, la sto semplificando perché sennò questo video diventa infinito. Quindi i numerini che troviamo scritti subito dopo l'indicazione della baionetta servono a farci capire che tipo di foto possiamo fare con quell'obiettivo. Perché se noi prendiamo un 85 mm è un'ottica che andrà bene quasi esclusivamente per ritratto. Se prendiamo un 35 mm è un'ottica che andrà bene per ritratto ambientato, per street photography, per paesaggio. Probabilmente non andrà bene per fare fotografie di animali perché essendo un medio grandangolo non ci permette di scattare gli animali senza andargli vicinissimo e quindi non va bene. Un 800 mm è un'ottica molto lunga che ci permette di fare fotografie di cose molto lontane. Quindi possiamo fotografare la luna con un 800 mm, possiamo fotografare gli uccelli con un 800 mm, possiamo forse fotografare anche le persone perché possiamo fare ritratto da lontanissimo con un po' di difficoltà, però sicuramente con un 800 mm non fotografiamo un paesaggio. Quindi a seconda del numero che troviamo noi più o meno sappiamo che tipo di ottica ci troveremo montata sulla fotocamera. Andiamo avanti e abbiamo un'altra indicazione. Qui abbiamo F4 trattino 7.1. F viene riportato su tutte le ottiche perché sta per F-stop e significa, la faccio breve, significa il valore minimo del diaframma che noi possiamo impostare sulla nostra ottica. Perché viene riportato il valore minimo? Il valore minimo è quello che permette di avere più luce possibile. Quindi F4 non è tanto luminoso. Giusto per darvi un'idea della scala, molto luminoso è F1.2. F1.2, numero piccolo, vuol dire che entra tanta luce. Numero grande, quindi F22 per esempio, vuol dire che di luce ne entra poca. Perché viene riportato il diaframma massimo? Perché il diaframma minimo è meno rilevante e sulla maggior parte delle ottiche sta su un valore di F22. Quindi non ha molto senso riportare il valore minimo, ci interessa poco. Ci interessa il valore massimo perché con il valore massimo capiamo quanto è luminosa l'ottica. Tutte le ottiche chiudono fino a F22, ma non tutte aprono fino a F1.2. Questa per esempio parte da F4 e partire da F4 significa che è un'ottica non luminosa. Perché, ve lo ripeto ancora, numero piccolo, tanta luce. F1.2, tanta luce. F4, poca luce. F22, pochissima luce. Non esistono ottiche che partono da F22, ovviamente. F22 è la massima chiusura, la massima apertura. In questo caso partiamo da F4. Significa che quest'ottica è buia, non è particolarmente luminosa. Funziona lo stesso, funziona di giorno, va benissimo, però di sera chiaramente avremo delle difficoltà. Con un'ottica che costa di più e che quindi apre a F1.4, F1.2, potremo scattare in condizioni di luce più avversa rispetto a questa. Non solo, ma qui c'è un trattino. Quindi F4 trattino F7.1. Questo che cosa significa? Essendo questa un'ottica zoom, se io scatto al minimo zoom, quindi a 24 mm, scatto a F4, il primo dei due numerini. Se io zoom a 105 mm, io scatto a F7.1. Questo perché? Perché allungando il tubo, la quantità di luce che riesce a raggiungere il sensore diminuisce. E quindi per questo motivo, se io zoom avanti, perdo luminosità. E ne perdo tanta, perché da F4 finisco a F7.1. Questo è una cosa da sapere, perché quando vediamo F con il trattino, significa che abbiamo un diaframma variabile. Quindi tra il minimo zoom e il massimo zoom io perdo luce. E questo significa che se scatto col massimo zoom le mie foto avranno gli ISO più alti o i tempi più dilatati. Questa è una cosa da sapere perché potrebbe tagliare la testa al toro. Un'ottica come questa con il diaframma variabile, per esempio, io non la voglio utilizzare quasi mai. Perché mi dà fastidio. Perché preferisco delle ottiche che costano di più e che hanno il diaframma fisso. In maniera tale che io quando zoomo non devo preoccuparmi di niente perché il diaframma rimane costante. Sono ottiche che hanno un prezzo maggiore, un diametro maggiore, un peso maggiore. Sono costruite diversamente in modo, a mio parere, nettamente migliore. E mi permettono di lavorare molto meglio. In quel caso, invece di vedere F numero trattino altro numero, avremmo visto semplicemente F con un numero, senza nessun trattino. Andiamo avanti e qui abbiamo un'altra informazione interessante. IS. Questa è una dicitura che può variare a seconda della casa perché ognuno lo chiama in modo diverso. IS sta per stabilizzatore di immagini. Quindi questa è un'ottica che stabilizza le nostre immagini. Lo fa mediante un sistema di anelli e contrappesi che vanno a bilanciare il movimento della nostra mano. L'ho già spiegato mille volte, ragazzi. Lo stabilizzatore in certi casi serve. Soprattutto se stiamo usando un'ottica molto lunga, se stiamo usando un 800 mm, avere lo stabilizzatore salva la vita perché più è lunga l'ottica, più è ampio l'errore che facciamo. È difficile fare una foto mossa o sbagliata usando l'iPhone che ha delle lenti molto corte e che è piatto. Ma se stiamo usando un bazooka così, al minimo movimento della nostra mano corrisponderà a un errore molto maggiore nel punto in cui stiamo fotografando. Quindi lo stabilizzatore ci salva in quei casi. Però è sbagliatissimo pensare che con lo stabilizzatore possiamo fare tutto quello che vogliamo senza interessarci più dei tempi di posa. Perché se noi sbagliamo i tempi la foto viene mossa comunque. Perché se noi pensiamo tanto allo stabilizzatore e quindi posso dilatare i tempi di posa, poi il nostro soggetto si muove e la foto viene sbagliata. Quindi non crediate che avere uno stabilizzatore sull'ottica vi dispensi dal saper usare i tempi in fotografia, dal saper usare un minimo di tecnica e di testa. Ciò detto, IS significa che quest'ottica lo stabilizzatore ce l'ha. La mancanza di una lettera L tra queste indicazioni ci fa capire che questa non è un'ottica premium della casa. Canon utilizza la dicitura L. Le ottiche di serie L che hanno anche riportato un anello rosso intorno al frontale dell'obiettivo sono quelle più belle e più costose. Quest'ottica non ce l'ha, quindi non è un'ottica di serie premium. E infatti il prossimo dato che troviamo, l'ultimo dato che troviamo sul frontale dell'obiettivo è STM. STM fa riferimento al tipo di motore di autofocus. In questo caso la tecnologia STM, io mi ricordo quando venne introdotta, io lavoravo come promoter per Canon quando venne introdotta questa tecnologia, quindi me la ricordo bene. L'STM è stata la prima tecnologia che permetteva agli obiettivi standard di avere una messa a fuoco continua durante le riprese video. Prima con i motori USM non funzionava questa cosa, invece dall'introduzione dei motori STM abbiamo cominciato, con i primi modelli, con la Canon EOS 100D se ricordo bene, qualcosa del genere, abbiamo cominciato a poter mettere a fuoco in maniera rudimentale anche in maniera continua durante le riprese video. E la dicitura STM era quella che aveva appunto questa funzione integrata. Oggi abbiamo i due tipi di motori, ovvero abbiamo l'USM, quello a ultrasuoni, e l'STM. L'USM sulla carta è migliore perché è un motore a ultrasuoni, quindi dovrebbe essere più rapido, più preciso e più silenzioso. La verità, ragazzi, è che io utilizzo entrambi i sistemi, non riesco a riscontrare differenze significative. Perché sono entrambi così progrediti e così performanti che per quello che faccio io la differenza, veramente non la noto. Magari in sport estremi o in avifauna l'USM avrebbe ancora un vantaggio, non lo nego. Probabilmente è così, ma per quello che faccio io, cose corporate abbastanza standard, non c'è veramente la differenza. Però comunque sapere che c'è un STM o un USM è una bella cosa perché vuol dire che c'è un motore di messa a fuoco, altrimenti se non ci fosse scritto niente vorrebbe dire che siamo in presenza di un'ottica con cui focheggiare solo manualmente e quindi è importante saperlo. Ulteriori informazioni che noi possiamo reperire sempre sull'ottica, ma che attenzione troviamo anche online, sono la distanza minima di messa a fuoco e il diametro del nostro frontale. Andiamo a vedere questi due dati e cerchiamo di capire perché ci interessano. Qui sul barilotto io vedo riportato wide 0.2, quindi con quest'ottica io posso andare a mettere a fuoco a una distanza minima di 20 centimetri. Questo è importante perché la distanza massima è infinito su tutte le ottiche, quasi tutte le ottiche, quindi la distanza massima nuovamente non ci interessa, la minima mi interessa molto perché se io voglio fare macro da vicino e questa arriva massimo a 20 centimetri magari per me non va bene, magari voglio avvicinarmi di più e quindi mi serve un'ottica con capacità macro più progredite di questa. Non solo, ma se io vado a usare il teleobiettivo abbiamo un secondo parametro. Con il teleobiettivo la distanza minima di messa a fuoco diventa di 0.34, quindi 34 centimetri. Quindi che cosa significa? Che se io vado a zoomare devo allontanarmi un pochino, non posso rimanere alla stessa distanza se ho zoomato tutto avanti. Questa di nuovo è un'informazione importante perché se io volessi andare col teleobiettivo a focheggiare da molto vicino quest'ottica non va bene e quindi mi riportano questo dato per farmelo capire. Un'altra cosa che dobbiamo andare a vedere è appunto il diametro del nostro frontale. In questo caso abbiamo 67 mm. Perché è importante? Perché io potrei voler mettere un paraluce o dei filtri qui davanti e quindi devo sapere qual è il diametro. Ho fatto diverse recensioni di filtri molto interessanti di KNF Concept e non solo sul mio canale di recente. Quindi andateveli a recuperare per vedere perché uno potrebbe voler mettere dei filtri, perché migliorano di parecchio le nostre foto. Sapere il diametro è essenziale perché se io prendo un filtro da 52 mm, provo a montarlo qui sopra, è troppo piccolo, non va bene. Se lo prendo da 82 mm pure, è troppo grande, non va bene. Quindi io devo sapere che diametro ha la mia ottica per capire che filtri utilizzare. E arriviamo finalmente a qualcosa che di solito il produttore non ti dice in maniera così esplicita e non c'è scritto da nessuna parte sull'ottica. Noi possiamo in minima parte andare online e cercare i grafici MTF. Che cos'è un grafico MTF? È una rappresentazione visiva della performance di un'ottica in termini di nitidezza e contrasto. Quindi quando noi vogliamo comprare un'ottica, che cosa facciamo? Guardiamo il nome di quell'ottica. Quindi RF 24 105 mm F4-F7.1 IS STM e andiamo a cercarlo su Google, andiamo a cercare il nome dell'ottica più MTF chart. Questo ci porterà a visitare centinaia di migliaia di siti per lo più indipendenti che hanno fatto dei test e che ci fanno vedere i grafici, i grafici MTF dell'ottica che abbiamo cercato. Questi grafici che cosa ci dicono? Ci dicono quanto è nitida quest'ottica al centro e ai bordi e di solito fanno la prova a diversi diaframi e a diverse lunghezze focali. Questo ci può aiutare a capire, facciamo un esempio, io prendo un 24 105 e so che lo userò sempre a 105 perché devo fare solo ritratti in studio. Vado a vedermi il grafico MTF e questo grafico mi dirà quell'ottica se ha una buona nitidezza al centro e se ha una buona nitidezza ai bordi a 105 mm e se è un bel grafico me lo dirà anche a f7.1, a f11 e a f22. Così capisco, in base al diaframma che vorrò usare, capisco se quell'ottica avrà la nitidezza giusta nel punto in cui serve a me. Può essere, vi faccio un esempio, io ho preso il 14 35 mm, ho guardato i grafici MTF prima di comprarlo, quell'ottica ha la sua massima nitidezza a 14 mm e va un pochettino a calare quando si zooma a 35. A me va bene, perché io la uso prevalentemente tra i 14 e i 16 mm, tra i 14 e i 20, toh. Raramente uso il 35 su quel tipo di ottica, lo uso ogni tanto ma raramente, quindi a me va bene così. Se a me fosse interessato prevalentemente il 35 mm, quella non era l'ottica migliore, potevo sceglierne una che performasse meglio dove l'avrei usata la maggior parte delle volte. E a questo servono i grafici e ci danno una sorta di mappa di quello che ci troveremo in mano quando compriamo un'ottica. Tutti questi dati bisogna immagazzinarli, ricordarseli in maniera tale che quando andiamo a selezionare un'ottica non ci facciamo cogliere impreparati, capiamo a prima vista che cosa stiamo comprando e che cosa ci troveremo montato sulla fotocamera una volta tornati a casa. È molto meglio saperlo prima piuttosto che tornare a casa con qualcosa che poi non corrisponde alle nostre esigenze e aspettative. Signori, io non mi dilungo oltre perché questo video è venuto molto più lungo di quello che avevo programmato. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, fatemi domande se ho dimenticato qualcosa, bacchettatemi se ho detto qualcosa di sbagliato, ne parleremo come sempre nei commenti e vi risponderò anche con shorts verticali, quindi chi si iscrive subito non corre il rischio di perderseli. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.